Buonasera, questa settimana ho sentito l'intervista di Gianfranco Semproni alla Zanzara e a Renzo. È stato un vero maleducato e fatto un bene a rispondere. Sono andato a Franco, sono mezzo stronzo, che cazzo li conosce? Ma io li conosco. Ma non è una frega di cazzare che in mezzo a lei si è detto, se ne porre una mezzarecchia, che cazzo c'entra i tuoi? Che mi chiama a fare? Pure io molti rispetto perché sei di pescare a Zanzara, la radio, ma a me della radio non me ne frega niente. Però se ci sta uno stronzo come quello che interviene facendo delle battutine, capite, all'orecchia, non ho capito che volessi fare. Cioè se ti tenessi a quadri facessi una faccia come uno pallone. C'è stato uno scambio? Ma no, quello che si inseriva su dei discorsi, poi sai quando parli là alla radio ti incalza, capite, il cruciano. Fanno di tutto per metterti in difficoltà. Sì, ma a me non puoi ricordare. Ma hai capito che ti stavano un po' prendendo per... Ma a me non mi metto in difficoltà, io ti metto in difficoltà, io ti mando a fangolo. Ti hanno fatto anche scherzi telefonici. No, vabbè, sì, vabbè, qualche scherzo in telefonici. Ma noi diciamo, dai. Ma questi scherzi sono stronzi. Cioè se ti tenessi a quadri facessi una faccia come uno pallone.